L'anno 2020 che ci siamo lasciati alle spalle è uno di quegli anni che passerà alla storia e difficilmente lo dimenticheremo, noi che l'abbiamo vissuto e le generazioni future che lo studieranno. Ma, come recita un vecchio adagio, anche nella notte più buia brillano le stelle ed a ben guardare i dati ISTAT del 2020 di Caltagirone è possibile vedere qualche spazzo di luce, anche se fioca, che contrasta con le aspettative catastrofiche che potevamo aspettarci da quest'annus orribilis che è stato proprio il 2020. Dopo gli effetti della pandemia tutti ci aspettavamo un consistente aumento del numero di decessi ed una diminuzione del numero dei nati. I dati ISTAT forniteci dall'ufficio del comune di Caltagirone ci rassegnano una realtà ben diversa. Le nascite sono aumentate e i decessi sono diminuiti. Siamo passati da 265 nati nel 2019 ai 273 del 2020, quindi registrando un aumento di più 35, mentre i decessi sono scesi da 435 del 2019 a 403 nel 2020, ovvero sia un saldo negativo di meno 32. Tuttavia il saldo naturale nascite dei cessi rimane sempre negativo a meno 130 e questo è un dato che purtroppo è coerente con il trend che si consolida ormai da quasi due decenni. Il punto di svolta lo si è avuto nel 2011 quando il numero dei decessi ha superato il numero delle nascite, come si può vedere nel diagramma movimento naturale della popolazione. A mitigare l'effetto del saldo del movimento naturale della popolazione interviene il saldo migratorio, pur rimanendo quest'ultimo sempre in fase decrescente. Il flusso migratorio viene distinto in due macro-categorie, gli iscritti e i cancellati, gli iscritti da altri comuni e iscritti dall'estero e i cancellati da altri comuni e cancellati per l'estero. Guardando questi dati possiamo vedere che nel 2019 gli iscritti da altri comuni erano 322, mentre nel 2020 sono stati 284. Nello stesso intervallo temporale gli iscritti dall'estero sono passati da 152 a 108. I cancellati per altri comuni sono scesi da 585 a 478, così come i cancellati per l'estero scendono da 157 a 110. Il saldo migratorio rimane sempre in fase negativa anche se dal 2019 al 2020 si passa da meno 326 a meno 196. In tema di fenomeno migratorio si registra che al 2019 l'incidenza dei migranti sulla popolazione di Caltagirone era pari al 3,5%, con una composizione del 36,1% di migrati provenienti dall'Europa. Il 29,3% dai paesi asiatici, il 28,8% dall'Africa e il 5,8% dalle Americhe. Le comunità più numerose di immigrati residenti a Caltagirone provengono dalla Romania con il 28,8% e dallo Sri Lanka con il 22,2%. La popolazione residente è passata da 36.151 del 2019 a 37.029 nel 2020 con un incremento di 878 unità pari al 2,43% e questo è un dato senza dubbio positivo anche se non possiamo non guardare il trend ventennale che purtroppo permane sempre in fase decrescente. Grazie a tutti.